Cari amici giovani, oggi è la festa del Natale del Signore e a voi che vi mettete a contatto e leggete il blog del seminario, oggi avete l'opportunità di ascoltare il mio augurio, che volentieri vi faccio aggiungere. Natale è la venuta di Cristo sulla terra, è il momento in cui Gesù è nato a Betlemme, scartato da tutti, per lui non c'era posto nell'albergo del Signore di Luca, e l'altro augurio che vi faccio veramente che oggi possiate veramente accorgervi che Gesù è nato, che Dio è vicino a noi, appunto, da farsi un uomo, venire a abitare in mezzo a noi, per dare a voi giovani una speranza, un entusiasmo, una prospettiva di vita. Uno dei pericoli che oggi i giovani, ma anche un po' noi adulti, subiamo nel mondo è quello di addormentarci, è quello di prendere la vita così come viene, lasciando che ci caschi addosso. Mentre voi giovani dovreste essere aggressivi, grittosi, desiderosi di affrontare la vita con grandi ideali, con grandi sogni. Gesù è venuto sulla terra proprio per dirci che Dio ci ama e che Dio ci ha creato per dei grandi progetti e dei grandi disegni. Non deludete il Signore, perché Lui non ha deluso noi al punto che è venuto a nascere in una situazione di povertà, per dire che condivideva le situazioni più di disagio, è venuto a dare la vita per noi del risorto, per dire che chi ha veramente amore non bada a conti, a fare dei calcoli, a risparmiarsi, ma si dona. Ragazzi, vivete all'altezza della grande dignità che avete come uomini, come persone e come cristiani. L'augurio di Natale è che vi accorgiate che oggi in festeggiato si chiama Gesù. Auguri.